Oggi si faranno delle riflessioni sul tema della Prima Guerra Mondiale? Sì, certamente. Io ho preparato una relazione anche piuttosto lunga, ma credo che in qualche modo per non tediare l'uditorio la esporrò così a braccio. La relazione parte da un inquadramento dell'epoca storica in cui nasce la Prima Guerra Mondiale, le effettive cause per le quali si è entrato in guerra, l'iniziale neutralità italiana che è durata 10-11 mesi, poi l'entrata in guerra. Non mi dilungherò molto sui fatti bellici, naturalmente i fatti più importanti Caporetto, Piave, Vittorio Veneto che poi ha dato il via alla richiesta da parte degli austriaci dell'armistizio firmato il 3 novembre. Cosa è stata quella guerra per l'Italia di allora e per l'Italia di oggi? Allora, per l'Italia di allora sicuramente è stato il compimento dell'unità nazionale perché non dimentichiamoci che erano rimasti in mano gli austriaci a seguito delle guerre di indipendenza, erano rimaste le importanti città di Trento e Trieste, era rimasto il Trentino Alto Adice, il Friuli, eccetera. Quindi l'Italia voleva compiere la sua unità nazionale, tant'è vero che la Prima Guerra Mondiale viene anche definita Quarta Guerra di Indipendenza. Oggi naturalmente non solo celebriamo il centenario ma cerchiamo di ricordare anche gli atti di egoismo, la tenacia, il sacrificio dei nostri soldati e quindi il tutto inquadrato in un incentivo per i giovani per non perdere quei valori che purtroppo si stanno perdendo sempre di più, l'amor patrio e quant'altro, valori di etica, di moralità e soprattutto di sacrificio. Quanto è importante conoscere la storia della Prima Guerra Mondiale e la storia in generale? Ma guardi, lei sfonde una porta aperta, io sono appassionatissimo di storia, tant'è vero che nel mio lungo cammino rotariano spesso propino ai soci delle relazioni. Ricordo di averne fatto una sulla Repubblica Cortonese nel 1799. È importante la storia perché ovviamente la storia imparare quello che è stato già vissuto dai nostri avi non solo ci fa vivere o ci dovrebbe far vivere un presente migliore ma soprattutto serve per preparare il futuro e quindi per preparare ritorniamo sempre alle nuove generazioni per inculcare alle nuove generazioni i valori di cui parlavo prima.